A caccia di un'impresa al cospetto di una corazzata e con la spia rossa dell'emergenza accesa. Servirà una serata perfetta stasera al Foggia per uscire quantomeno indenne dal vigorito di Benevento. Cudini ritrova di noia ma non avrà a disposizione lo squalificato Ercolani e l'infortunati Rizzo e Carillo. Difesa dunque decimata dalle assenze col tecnico obbligato a fare di necessità virtù. Di certo è una gara che per il Foggia può valere tanto e può mutare gli obiettivi. Ne è convinto anche lo stesso Cudini e non ne fa mistero nelle dichiarazioni della vigilia. Conta tanto perché vogliamo avere continuità quindi per noi è un banco di prove importante per dare continuità a queste tre vittorie che abbiamo fatto quindi sarebbe un peccato non continuarle però sappiamo che incontriamo una squadra importante in un momento positivo e in fiducia quindi dobbiamo essere molto bravi a contrastarla e soprattutto a mettere in difficoltà però ci arriviamo con un buono spirito ci arriviamo con una buona idea ci arriviamo con un po' di spensieratezza tra virgolette e quindi vedremo domani quello che viene fuori. L'emergenza tuttavia non muterà le certezze tattiche acquisite Cudini continuerà sulla strada del 3-4-3. Sì, mi dà fastidio sinceramente perdere magari sempre i giocatori per infortunio perché poi magari a volte non sai mai quando può durare e quindi in questo momento ci dispiace perché siamo nel momento clu del campionato però come ho detto abbiamo altre caratteristiche, altre qualità in rosa e quindi ci sarà spazio per tutti e quindi questo magari è il momento di dimostrare e tirar fuori qualcosa in più. A Benevento stasera il Foggia non avrà i propri tifosi al seguito ai quali è stata vietata la trasferta per i supporters rossoneri e una delle sfide più sentite e Cudini e Di Suoi intendono fare un regalo al proprio popolo. Sappiamo l'importanza che questa maglia comporta, sappiamo l'importanza della nostra gente, sappiamo l'importanza della partita contro il Benevento e quindi lavoriamo per noi stessi ma sostanzialmente lavoriamo per il bene del Foggia e quindi il Foggia è anche merito, è anche bene comune dei tifosi e quindi lavoriamo anche per loro, renderli felici come è successo anche la partita scorsa per noi è un motivo d'orgoglio, è normale, abbiamo passato un periodo buio, un periodo complicato però in questo momento devo dire che ci sono stati vicini e anzi colgo l'occasione per ringraziarli perché ci hanno lasciato anche un po' di tranquillità per poter magari averla in campo e quindi in questo momento ci stanno dando ragione ai risultati però ripeto non possiamo abbassare la guardia perché è un campionato talmente equilibrato che basta vincere una e trovarti in una posizione classifica e basta fare un passo falso per ritornare magari dove uno non dovrebbe e quindi dobbiamo stare bene attenti e ben concentrati. Pochi dubbi e scelte obbligate in difesa come detto il Foggia che stasera affronterà le 20.45 il Benevento al Vigorito difficilmente si discosterà da quello che appare in grafica. Davanti a Perina, Spazio, Assalines, Riccardi e Dinoia con il centrocampista costretto ad adattarsi Braccetto. A metà campo Silvestro e Vezzoni agiranno sulle due corsie con Ogere e Tascone in mezzo confermato il tridente affidato a Rolando, Santaniello e Millico. Sarà Roberto Lovison di Padova a dirigere la sfida, coadiuvato dagli assistenti Decorato di Cosenza e Conti di Seregno, quarto ufficiale Arena di Torre del Greco.